Buongiorno, questa è la presentazione del poster per la 14esima conferenza nazionale di statistica. Io sono Alessandro Zeli e sono un tecnologo dell'Istat. Da parecchi anni mi occupo di statistiche economiche, in particolare di statistiche sulle imprese. Mi sono occupato per molto tempo dell'indagine SCI, di cui ero responsabile, ossia l'indagine sui conti economici delle grandi imprese. Successivamente mi sono occupato di metodi di valutazione delle politiche economiche e ultimamente lavoro nella DVSE per curare l'implementazione delle stesse statistiche economiche all'interno dell'Istituto. Assieme a me hanno collaborato e hanno scritto questo lavoro i professori Matilde Bini dell'Università Europea di Roma e il professor Lucio Massarini dell'Università di Pisa. Questo lavoro si propone di valutare l'influenza che ha la capacità di innovazione di ogni singolo paese sulla crescita economica. In particolare noi abbiamo preso in considerazione alcuni paesi all'interno dell'Unione Europea e abbiamo valutato per ognuno di questi paesi sia la propria capacità innovativa, sia la crescita economica negli ultimi anni. In particolare per quanto riguarda la capacità innovativa ci siamo rifatti al concetto di sistema nazionale di innovazione che consiste appunto nell'aggregazione di diversi indicatori dal numero di iscritti all'università, alla spesa in ricerca e sviluppo, al numero di brevetti che devono essere poi sintetizzati in maniera da rendere possibile una comparazione tra diversi paesi tramite delle metodologie statistiche. La stessa cosa abbiamo fatto per alcune variabili economiche che vanno a determinare la crescita del paese partendo dal GDP, ma non solo. Il metodo di aggregazione scelto per sintetizzare l'informazione di queste due caratteristiche sono degli indici compositi. Gli indici compositi, in particolare per la metodologia, ci rifacciamo ai lavori recenti di Mazziotti e Pareto del 2016 e ai lavori di Ciommi e altri del 2017. In particolare andremo quindi a creare questi indicatori di sintesi, quindi questi indicatori compositi, attraverso varie fasi che prevedono innanzitutto la loro normalizzazione, per cui facciamo variare questi indici in un intervallo completo fra 70 e 130, quindi centrato rispetto a un valore 100. e poi valutiamo diversi metodi di peso, di aggregazione, partendo da quello più semplice, ovvero di imporre un peso uguale per tutti gli indicatori, fino a delle metodologie più complesse. In particolare noi faremo riferimento a un approccio di variabilità orizzontale tra gli indicatori che appunto li pesa in base alla loro variabilità rispetto alle singole medie. I risultati di questo lavoro sono ovviamente due indicatori, vari indicatori appunto scaturiti da vari metodi di ponderazione, di aggregazione, per ogni singolo campo, cioè il campo dell'innovazione e il campo dell'economico. I risultati che abbiamo ottenuto sono tutto sommato abbastanza incoraggianti, perché innanzitutto c'è una buona correlazione per la maggior parte di questi indicatori e quindi questo è già un indice di robustezza sia dei dati, degli indici di base che siamo andati a scegliere, sia dei vari metodi di aggregazione che nella maggior parte dei casi danno gli stessi risultati. In particolare poi si è comparato l'indicatore riguardante il National Innovation System rispetto ad altri indicatori simili costruiti presso l'OXE e vediamo che c'è un'ottima correlazione anche nei vari sottocampi in cui si può dividere questo indicatore con l'indice benchmark dell'OXE del 2010. Noi teniamo conto che abbiamo utilizzato una serie di dati che parte dal 2010 e arriva al 2018, quindi successive a quello fornito dall'OXE, e un buon adattamento anche per quanto riguarda la crescita economica. Quindi possiamo dire che questi indici composti danno una buona misura dei fenomeni che andiamo a rilevare. Per quanto riguarda la correlazione tra i due, cioè una prima indagine su quanto una buona capacità di innovazione influisca sulla crescita economica, quindi sulle variabili economiche, possiamo dire che i risultati non sono ancora ben chiari e definitivi. Esiste in massima parte una correlazione positiva tra i due indicatori per la maggior parte dei paesi, però vi sono alcune anomalie. Ovviamente bisognerà riproporre l'analisi utilizzando dei metodi econometrici più completi e più avanzati rispetto a questo, quindi un vero e proprio modello. Però questo già ci rende, diciamo, ci incoraggia nel continuare questo lavoro e ci permette di individuare alcuni pattern rispetto alla capacità innovativa dei paesi e le relative relazioni con la crescita economica. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.